Nulla di fatto nel recupero Renate Spal, su tutti i fronti o quasi, almeno fino ai fuochi di artificio del recupero che ha visto prima il 94esimo banzato a farsi negare il gol dopo un grandesco da fuori dal providenziale intervento di Santurro e pochi secondi più tardi, imitato da Menegatti, pronto a bloccare un colpo di testa di Scacca Barozzi, nell'unica circostanza in cui la difesa di Rossi si è distratta, rischiando di macchiare una gara, per il resto priva di smagliature, con sopprattutto Silvestri e Buscaroli insuperabili. Per il resto confronto costellato di errori, specialmente in pace di impostazione, con le punte che finivano con il ritrovarsi prive di rifornimenti e le difese facilitate nei loro compiti. Emozioni quindi con il contagocce. Al sedicesimo ci provava da fuori Teggi, non riuscendo però ad inquadrare il bersaglio. Dopo tre minuti la risposta a Spallina era affidata ad una puntata cross dal fondo di Pandiani, sul quale Santurro sceglieva bene il tempo per anticipare Cozzolino. Poi, fino all'intervallo, solo noia, se si fa eccezione, per l'incursione di Mucchetti, che trovava il modo di far pervenire palla a spampatti, al quale rispondeva con sicurezza il sempre presente Menegatti. Ripresa all'insegna di paura, stanchezza e confusione, con tentativi velleitari di Castellani, che calciava oltre la traversa al ventunesimo, Cozzolino al ventinovesimo, utile solo per far far bella figura al numero uno di casa, e Fantoni al trentanovesimo, con una punizione da una distanza siderale veramente esagerata, anche per uno che ha la dinamite tra i piedi, come il difensore di Rossi. Dopo una fase centrale, il cui era il Renat ad apparire più fresco, il finale vedeva invece crescere la Spall, che, prima del botte e risposte in pieno recupero, si affidava all'incomiabile Cozzolino, che confermava tutte le sue doti, con controllo e pallonetto, però impreciso, al quarantunesimo. Al tirare delle somme, un pareggio che consente alla truppa di Rossi di dare una sistemata al morale, ma che, letta con attenzione la prestazione, traforza la convinzione che per cercare l'obiettivo il ricorso al mercato sia obbligatorio, inserendo un elemento di esperienza e personalità nel gruppo dei centrocampisti, situazione di cui è ben cosciente la copietà anche a Meda, a fianco della squadra, con il presidente Mattioli ed il padron Francesco Colombarini.